Secondo l'Osservatorio Economia e Territorio di CNA, il Veneto cresce da un PIL a meno 9% nel 2020, si passerà ad un PIL a più 5,8% nel 2021, recuperando circa il 60% di quanto perso l'anno scorso a causa del Covid. Dati confortanti che attestano una ripresa degli investimenti del 16,2% in grado di riportare la nostra regione ai parametri pre-pandemia. Possiamo dire che la strada è quella giusta, nel senso che stiamo recuperando quanto perso l'anno scorso, anche se non è ancora tutto compiuto, nel senso che poi per la crescita sostenuta un ruolo importante lo avrà sicuramente anche i contributi e i progetti del PNRR. Il motore dell'economia del Veneto ha tenuto regge nonostante la pandemia? A quanto pare sì, questo è quello che dicono i numeri, se teniamo conto tra l'altro che le previsioni per gli investimenti sono anche altrettanto confortanti, addirittura vanno sul 15-16% in più rispetto all'anno scorso. Il Veneto con la Lombardia e l'Emilia Romagna rappresentano assieme il 41% del PIL italiano, un sistema che vale il 54% dell'export nazionale, il 37% dell'occupazione e il 32% delle imprese. Queste regioni, insieme al Veneto, quest'anno dovrebbero crescere di più dei lender tedeschi, dei principali lender come la Baviera. Abbiamo osservato che le regioni italiane e quelle spagnole sono quelle che cresceranno di più quest'anno in Europa, ma anche sono quelle che hanno perso più PIL nel 2020, quindi c'è una sorta di compensazione. Credo che questo sia un momento importante per il nostro paese, per il nostro Veneto, dove inseriamo la positività di questa ripresa anche con la possibilità di avere nuove risorse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove questo potrebbe dare effettivamente un rilancio a tutto il nostro paese. CNA Veneto chiede alla regione di farsi parte operativa ed agire in favore di settori trainanti come Manifattura, Sistema Casa e Turismo. Sono delle filiere che possono trainare le imprese a prescindere dalla propria dimensione e a prescindere dalla propria categoria e questo può essere un rilancio importante per il Veneto. Sistema Casa e Turismo Grazie a tutti.